partendo dalla mezzi a terme abbiamo percorso la a3 per treggio calabrio fino ad arrivare all'uscita per pizzo calabro da lì percorrendo la statale siamo arrivati a tropea salve ragazzi ci troviamo oggi a tropea tropea sorge su un promontorio nella splendida costa degli dei secondo la leggenda ercole l'eroe greco approdò proprio su queste terre siamo in una splendida spiaggia marina dell'isola e me lo sono ricordato qua ci sono due o tre grotte che sono praticabili infatti io sono andato prima in una enorme che sono fatto un po' di pote Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora andiamo a mangiare un po' di pesce. Dopo aver degustato del buon pesce, nel pomeriggio ci siamo spostati nell'entroterra, precisamente a Zungri. Zungri è a pochi chilometri di distanza da Tropea. È un paese scolpito nella roccia, come una sorta di materia della Calabria, ribattezzato Villaggio Rupestre degli Sbariati, risalente all'età bizantina. Grazie a tutti. 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 Vi consiglio anche la guida e la visita al museo. Molto interessante, questo paese e il suo antico fascino aspetta solo voi al prossimo viaggio.